Dopo tutti i ragazzi, se ne sono qui, siamo a discutere per quanto riguarda il cammino e poi facciamo la connessione del piano all'ordine del giorno. Spero, come al problema dei candidati, penso che secondo me, sono stati in Italia, ma noi non lo so, sicuramente, il fatto che il mio riguardo è l'agente in Italia perché sono per dire una strutturiscrizione, è un danno di fai. Grazie. 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 Grazie.